Ecco qui questo bel centro di comunità, centro di comunità, guardate, Papa Francesco tiene tanto alla comunità che dice, guardate, la comunità è talmente importante che può generare se stessa la comunità. E come può generare se stessa la comunità nella misura in cui è accogliente ad iniziare dai più poveri? Guai a quella comunità, io adesso lo dico un po' in prosa usando dei termini miei, ma cito un numero bellissimo dell'Evangelii Gaudium che è il primo documento di Papa Francesco, guai a quella comunità che si disinteressa dei poveri. Quindi la vostra comunità, in questo centro, in tutto ciò che esso racchiude, raccolga i desideri, ma non soltanto i desideri, le opportunità che sono della comunità stessa ad iniziare dai più poveri, perché nella misura in cui una comunità si disinteressa di questo, la comunità distrugge se stessa.